Ciao a tutti benvenuti su un nuovo video questo video vi parlo del 2016 ho aperto il canale 12 gennaio 2016 ho deciso di interpendere questo cammino parlando del mio wake up video vlog un po di cucina così come ci sono i miei cani tra le fulmine che vedete durante i video il mio ragazzo compagno nicola che con lui abbiamo parto il canale istituzione di videogame ad aprile questo è stato un anno meraviglioso conosciuto molta gente ci sono state ovviamente qualche critical come sempre su youtube e nella vita reale la gente deve sempre criticare perché non ha niente da fare perché siamo tutti professori siamo tutti intelligenti tutti che deve essere i migliori in realtà non lo è nessuno unione così come ho conosciuto veramente molta gente come mauri capitano barba dura che saluto che abbiamo fatto i video vlog insieme saluto anche ad essendo covato che è venuto direttamente da cassino in pronuncia di fruginone e non diciamo che non te lo dico stavolta è venuto su da noi a paderno lugnano e ha fatto un video vlog con noi ci siamo divertiti parecchio la prossima volta li faremo del parco ci sarà ovviamente nicola anche nei video vlog ho conosciuto gente squisita la sunny flower e il bischiazio che sono di franza il sono anonimo che ha confermato di si chiamassi donovan che poi scoperto che lui e un altro hanno fatto meglio youtube meglio youtube sono diventata la sono tornata oggi hanno iniziato la sesta puntata finalmente dopo migliaia e migliaia sono tornati questa mafe che adesso vive in germania che l'ho conosciuto grazie io sono anonimo ho conosciuto emma la manu che purtroppo non è venuta neanche quest'anno vabbè ma ci rivediamo quest'estate non ti preoccupare e mi piace formica sull'insola e poi ho conosciuto tanti 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 se mi metto a farvi tutta la lista ciao non finisco più saluto mamma alessia e per la moglie di carri stella che per un po' adesso ho detto che non ci sarà ma adesso lasciamo che si guarda la sua bimba vieni tornata un po' molti molti youtubers fanno video c'è gente ovviamente che fa video make up anche lì e video games e video sulla cucina e saluto tutti perché se mi metto a fare la lista ciao non finisco più quindi sapete chi siete mi saluto tutti mi auguro questo buon anno di 2017 speriamo di incontarci tutti insieme noi dobbiamo fare un mega raduno da qualche parte faremo un mega raduno youtube se piccolini come noi e spero che i miei video vi piacciono perché la maggior parte non mi piacciono non lo so non me ne so accorta ma non me ne frega naca nel 12 gennaio ci sarà il primo anno del canale ci sarà una piccola una piccola cupcake con la candelina per il primo anno il 18 gennaio farò la torta perché ovviamente è il mio compleanno quindi vi saluto ci saranno ovviamente tanti video qualche make up scrivetemi perché se non mi scriverete me ne so accorta che non mi scrive mai nessuno quindi scrivetelo quale volete o quale volete vedere vi devo fare il video con quelli chiari perché vedete la differenza con gli occhi chiari a vedere come spegnere gli occhi che purtroppo non l'ho fatto a volte ho dei giorni in cui non faccio video perché non lo voglio non ho niente in mente anche se guardo in altri canali e nient'altro spero che questo 2017 ci siano tanti tanti vlog con altri colleghi oppure anche gli stessi un po' con un paese di primavera che inizia a fare caldo iniziamo a uscire tutto questo video è tutto un saluto e un saluto anche dalle peste che sono laggiù cosa stai facendo? porcaccioni eh? voi dove fanno i porcaccioni laggiù in fondo? vergogna porcaccioni sono animali sono essi viventi mi raccomando non regalate un cane se poi lo dovete abbandonare in estate perché è una cosa brutta ciao ciao 2016 e benvenuto 2017 farò il video adesso tra poco con l'altro canale se non è il video mi raccomando iscrivetevi ciao buon 2017 a tutti ciao